Siamo davanti a una tavola meravigliosa e imbandita con i prodotti della tradizione di Castel San Lorenzo e siamo anche in compagnia del primo cittadino, il sindaco Giuseppe Scorza. Sindaco c'è già a grande fermento per l'estate castellese, per la notte di mezza estate e qui stiamo vedendo solo una parte dei prodotti che chi verrà a Castel San Lorenzo in quei giorni potrà degustare. Sì, il primo e il 2 agosto si svolgerà una tappa fondamentale dell'estate castellese con le notti di mezza estate. Una bellissima occasione di gusto, di garbo, di delicatezza che le ragazze della nuova Proloco stanno organizzando con la sapienza e la capacità che le distingue sempre e che è uno snodo importante dell'estate castellese. Un'estate ricca di eventi, organizzata dall'associazione del territorio, tutte quante molto appassionate e molto attente a essere protagoniste e rendere protagoniste il territorio con i sapori e le tradizioni della nostra terra. Il 1 e il 2 agosto avremo la possibilità di assaggiare queste bellissime pietanze che le aziende del nostro territorio hanno preparato e che, organizzate dalle ragazze della nuova Proloco di Castel San Lorenzo, faranno davvero bella mostra e uno scenario assolutamente bello che le ragazze stanno organizzando per accogliere al meglio gli amici, le amiche e le tante persone che speriamo ci vengano a trovare in questa occasione di gusto, di sapori, di tradizioni, di spettacolo, di emozioni, di colori. Quindi davvero tutte le premesse per vivere insieme i giorni bellissimi.